Non poteva esserci una cosa più bella perché con uno scenario come il Mediterraneo cantare Napoli, avere la cultura, l'arte napoletana lì in un panorama paradisiaco io penso veramente che sia il top. Penso che Napoli abbia bisogno di queste iniziative che accrescono la nostra forza turistica che portano in giro veramente il bello di Napoli che a volte magari viene un po' messo da parte, viene un po' oscurato da notizie diciamolo anche un po' cattivelle. Quindi per me sarà un onore prendere parte a questa iniziativa e che dire ci vediamo a bordo con tanta musica.